bentornati nel mio canale oggi andiamo a preparare un primo piatto super veloce andiamo a preparare delle pennette con della carne macinata in un tegame mettiamo dell'olio d'oliva con della cipolla facciamo soffreggere mettiamo la carne macinata due cucchiai di salsa di pomodoro e del vino bianco nel frattempo mettiamo a cuocere anche la pasta e quando è ben al dente andiamo a scolare direttamente nel tegame della carne andiamo a saltare in padella con una buona manciata di formaggio grattugiato mescoliamo fino a quando tutta l'acqua si è ben assorbita ed è pronto un primo piatto veloce gustoso e semplicissimo spero che anche questa piccola ricetta super veloce vi è piaciuta continuate a seguirmi sul mio canale cucina insieme il tira ciao